Presidente, queste dimissioni irrevocabili, ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Sono state, chiaramente il bicchiere si è andato riempiendo lentamente. C'era un pregresso di mancanza di struttura, di richieste continue per una struttura stabile a tempo pieno, per portare avanti con successo il piano industriale. Purtroppo il Comune non si è reso conto che dovrebbe creare una task force a tempo pieno per portare avanti questo ambizioso piano industriale. Siamo fermi con la ristrutturazione delle strutture ricettive. Quindi è la mancanza di programmazione che l'ha fatta decidere a questo passo? Quello che non ho ritenuto né corretto né giusto è che questi continui incontri ci sono stati negli ultimi giorni. Mi riferisco in particolare a una riunione di maggioranza per quanto riguarda il futuro del Gran Sasso e lo sviluppo della nuova Seggioviele Fonteri, la riunione con le organizzazioni ambientali, ambientaliste e anche con altri soggetti interessati, dalle quali il centro turistico, io in prima persona, sono stato tenuto completamente al di fuori. Non c'è stata una minima condivisione. Da ex presidente ormai del centro turistico e da ingegnere, quindi tecnico, secondo lei sarebbe un errore fare l'impianto delle Fonteri come era, dove era? Cioè fare una semplice sostituzione? Guardi, non sarebbe stato un errore perché la nostra prima proposta presentata in conferenza di servizio era su un impianto molto simile a quello attuale. Quello nuovo comportava dei miglioramenti, non ultimo la possibilità di raccordo con l'attuale Scindarella e quindi di una maggiore sicurezza per quanto riguardava la gestione del compensorio sciistico e poi una maggiore protezione del vento perché è un impianto che a questo punto passava in una valletta e non in cresta.